Torna la rubrica Chi adotta un amico adotta un tesoro, arcura della redazione del RTC Quarta Rete in collaborazione con il canile di Cava dei Tirreni. Oggi parliamo di Teo. Tristezza e silenzio sono le uniche due parole che si pensano quando si passa davanti al suo box. Come tanti altri cagnolini, anche Teo prima aveva una casa, una famiglia, che ha deciso di non volerlo più, abbandonandolo. Teo ha quattro anni ed è il cane più buono e tranquillo del mondo. È un anetto mix Buddha castrato e si trova al canile di Cava dei Tirreni. Tutti coloro interessati ad adottare questo piccolo amico devono rivolgersi al numero 347 72 94 178.